Il Marte di Grasso, organizzato dal comune di Pordenone, ha fatto contente tutte le età con una doppia proposta. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Piazza 20 Settembre ha ospitato il tradizionale veglioncino dei bambini, che ha compiuto la sua missione, offrire un momento di svago, gioco e divertimento alle famiglie. Tantissime le mascherine che si sono ritrovate dove hanno potuto fare onore alla tradizione del Marte di Grasso. Preso d'assalto, come sempre, il laboratorio di Giulia Artico, durante il quale i piccoli creativi hanno potuto realizzare principesse, diavoli e unicorni e tanti altri oggetti di fantasia. L'oratorio Don Bosco ha messo in campo tutta la sua esperienza e capacità di proporre giochi e animazioni per sviluppare piccole abilità o semplicemente divertirsi assieme, dimenticando almeno per un pomeriggio televisione e videogiochi. Gli allievi dell'Oial, per tutto il pomeriggio, hanno truccato e pettinato grandi e piccini, mentre gli instancabili volontari della Proloco Pordenone, assieme al supermercato Crai di Angelo Carlett, si sono occupati del ristoro distribuendo bevande e piccole dolcezze. Presi d'assalto, come sempre, i giochi gonfiabili. Giunta la sera, la tradizionale festa del Marte di Grasso di Casa Serena, sempre partecipata con passione dagli ospiti e familiari, quest'anno è stata l'insegna del ritmo e dei colori dei Balcani. Ad aglietare la serata, con apertura dei festeggiamenti dalle ore 20, per protrarsi fino alle 24, è stato il duo Troplini, che ha proposto musiche e balli caratteristici di queste terre e in particolare con alcuni repertori dell'Albania. Infatti, seguendo le ricette di antica data, le pasticcere di Casa Serena hanno preparato crostoli e frittelle innaffiate con bevande e bibite.